Cari amici, diciamo, caldei, dobbiamo pensare all'Iraq. Io sono molto in relazione con l'Iraq, con la nostra chiesa dell'Iraq e tutto quello che è arrivato negli ultimi anni. Nel stesso tempo io sono vescovo dei caldei in Siria. Ho ricevuto migliaia di profughi arrivando dall'Iraq per aiutare, per organizzare la vita. Io sono sicuro che voi aspettate qualcosa sulla Siria di oggi. È un problema molto delicato, molto complesso. Dobbiamo dire che da 50 anni siamo in un regime un po' militare, l'ideologia del socialismo dell'Unione Sovietica. Tutto questo cambia oggi. Si deve sapere come parlare, come dialogare. E non è facile sia essere capace di dialogare, parlare nella verità, non aver paura, o sia lasciare la violenza. Questo è il nostro problema di oggi. Spero che la Siria sarà capace di fare riforme, di sapere come parlare nella verità. I cristiani hanno un luogo positivo. Se la violenza deve dominare, c'è un rischio per me, per tutti i patriarchi vescovi di Siria, di diventare come l'Iraq. E veramente abbiamo paura. Spero che il dialogo e la fiducia nelle riforme potranno, con l'aiuto di altri paesi, l'esperienza dell'Egitto, per esempio, o della Tunisia, ci aiuteranno a fare questi cambiamenti e uscire salvi e nella pace. Grazie. Grazie.